23 luglio 10 e 45 siamo nell'anno 2021 perché voglio ricordarvelo perché esattamente 80 anni fa nasceva il nostro presidente mattarella sergio mattarella entrato in politica dal 1983 dopo un fatto drammatico per il paese intero cioè l'uccisione di suo fratello maggiore pier santi che era impegnato nella democrazia cristiana siciliana infatti mattarella è nato a palermo e so di condividere con voi questo sentimento di ammirazione che poi diventa anche speranza che tutte le preghiere che oggi faremo proprio per lui come persona come rappresentante di tutta la repubblica italiana vadano attraverso l'intercessione di padre pio a migliorare ulteriormente quello che è la nostra italia che faticosamente in questa estate un po anfibia potremmo chiamarla sta attraversando mattarella è quasi alla conclusione del suo settennato da presidente della repubblica a questo proposito vi ricordo che c'è il sito quirinale.it dove potete andare a cercare e trovare tantissime notizie noi abbiamo messo in evidenza in questo momento la foto del suo viaggio più importante e recente il 5 luglio scorso in francia visita di stato lo vedete alla sua sinistra c'è il presidente emmanuel maccon e il presidente mattarella ha voluto ricordare in quell'occasione in un discorso pensate alla sorbona non è stato l'unico momento in cui ha parlato nel lungo viaggio in francia ma io naturalmente ho dovuto scegliere e dunque alla sorbona in questo tempio della storia europea anche nel segno del cristianesimo il presidente mattarella ci ha ricordato che l'istituzione dell'università le istituzioni culturali nel corso dei secoli hanno contribuito in modo essenziale allo sviluppo di idee e concetti che sono basi fondanti della società europea contemporanea un modo di essere ci ricorda mattarella anche oggi nel quale la persona è al centro di una fitta rete di diritti e tutele che garantiscono il libero esprimersi e il suo svilupparsi come singolo e come comunità ecco questo concetto poi più tardi lo riprenderemo anche attraverso le parole di padre marco rupnik come sapete è un grande protagonista dei luoghi di san pio è un teologo e lo sentiremo in un'intervista che ho ritrovato anche providenzialmente in parte casualmente ma lo vedremo dopo perché mattarella e il suo ricordare la persona con i suoi diritti è connessa a quello che padre rupnik ci spiega a proposito della libertà dei figli di dio intanto voglio subito salutare maria antonia perché è già pronta da qualche minuto proprio nella chiesa di san pio per il consueto collegamento in diretta grazie maria antonia a te buongiorno maria pia buongiorno a tutti voi ci uniamo anche noi qui troupe in esterna gli auguri di buon compleanno al nostro carissimo presidente sergio mattarella abbiamo avuto in questi mesi ormai tanti di terribile pandemia mesi difficili per tutto il paese abbiamo potuto anche in alcuni momenti davvero significativi apprezzare e conoscere anche il lato più umano più intimo del nostro caro presidente che è entrato ancora di più nel cuore di tutti noi quindi davvero tantissimi auguri di buon compleanno per questo compleanno appunto tondo 80 anni un grandissimo traguardo e a proposito di festeggiamenti e di traguardi proprio qui in chiesa san pio oggi verranno festeggiati due venticinquesimi di matrimonio quindi un giorno di festa anche qui speriamo anche di magari riuscire a raccogliere qualche testimonianza dei festeggiati perché no ci piacerebbe poter festeggiare insieme poter condividere davanti alle nostre telecamere questo momento di festa Maria Antonia ti ringrazio tra l'altro appunto hai anche completato un po con una parte più sentimentale direi esistenziale questo nostro rapporto col presidente mattarella del quale non ho prima fatto in tempo a specificare che l'inizio del mandato è stato il 3 febbraio del 2015 quindi il semestre bianco perché vicino perché si parla tanto in questi giorni nell'attualità politico istituzionale di cambiamenti di attenzione al parlamento tra l'altro il nostro presidente è proprio un costituzionalista quindi potrebbe lui stesso spiegarci queste cose che lo riguardano perché appunto nella costituzione è previsto per una serie di motivi di pesi e contrappesi che negli ultimi sei mesi il presidente della repubblica in carica non può sciogliere le camere il che significa che non si va a votare in ogni caso e quando inizia il semestre bianco di mattarella il 3 agosto prossimo quindi tra dieci giorni ecco perché magari così a pezzi e bocconi abbiamo sentito parlare anche se magari ci interessa qualcosa di più essenziale appunto della nostra Italia e di quello che mattarella continua a fare per accompagnarla anche nella speranza appunto nella forza di uscire dalle difficoltà però c'è sempre insomma adesso questa modalità un po segmentata di vivere anche l'informazione che può confonderci io ringrazio invece tutti voi per la pazienza per cui in questi minuti avete comunque condiviso con me questi elementi pensate appunto che poi dopo quel 1983 di cui vi ho parlato in cui mattarella è stato eletto per la prima volta deputato poi da lì 25 anni dedicati appunto al parlamento poi la nomina giudice costituzionale insomma abbiamo una figura straordinariamente di primordine al quirinale di questo andiamo orgogliosi e questo ci rassicura ma intanto siamo arrivati anche a una data 23 luglio che è in evidenza anche nel calendario liturgico perché c'è una figura femminile che conosciamo meglio proprio da pochi anni una figura femminile che però ci proietta nel quattordicesimo secolo santa brigida di svezia come vedete sposa e madre ed è anche compatrona d'europa questa decisione è stata presa da giovanni paolo secondo nel 2000 proprio nel grande nell'anno del grande giubileo è stata anche terziaria francescana come frasi ho scelto ogni carisma è destinato ad edificare la chiesa era stata venerata immediatamente per delle sue rivelazioni in quanto la sua vita la sua esistenza è stata praticamente completa proprio perché si è sposata ha avuto otto figli con suo marito che era un nobile svedese eppure ha avuto queste rivelazioni in cui il signore le affidava il compito di fondare un nuovo ordine monastico forse qualcuno di voi ha sentito l'espressione brigidine non soltanto a proposito appunto delle monache dell'ordine da lei fondato ma le brigidine sono anche per traslato per quel tipo di popolarità e anche di linguaggio semplice che è così bello nelle nostre tradizioni cattoliche le brigidine sono per traslato anche dei biscotti e quindi qualche volta immaginate il loro copricapo dove c'è una caratteristica doppia linea che forma una croce sulla testa e questo è il loro segno scelto proprio dalla fondatrice santa brigida di svezia appunto ma non basta quando si parla di questa donna di questa santa dobbiamo anche ricordare che è stata protagonista della battaglia perché il papa tornasse a roma e in realtà poi durante la sua vita questo non è avvenuto c'era la cosiddetta cattività avignonese quindi la sede del pontefice era in francia d'avignon appunto eppure grazie a brigida che dalla svezia poi si trasferì a roma per la sua appunto parte religiosa dell'esistenza grazie a lei anche una grande italiana patrona del nostro paese caterina santa caterina da siena riuscì anche lei con le sue lettere con la sua battaglia a convincere e vincere la battaglia perché il papato tornasse a roma e così è avvenuto soltanto due anni dopo quel 1373 che l'anno appunto della morte di brigida di svezia e poi se si va a guardare anche qui c'è una lunga messe di fonti che potrei indicarvi ma sarete bravi anche da soli a navigare su internet una delle frasi oltre a quella che vi avevo appena letto è una donna per la pace in europa oggi insomma questa italia anche nel segno europeo passa sia attraverso la nostra vita civile attraverso la nostra vita istituzionale che attraverso la nostra vita di cattolici che hanno a cuore appunto anche il calendario liturgico adesso è il momento invece di ricordare proprio voi pellegrini qui a san giovanni rotondo e andiamo in quegli anni 80 di cui vi ho accennato per le vicende del nostro presidente perché andiamo a scoprire un bel pellegrinaggio in una immagine ovviamente di quelle di gruppo era un gruppo di preghiera proveniente da bologna che negli anni 80 ha vissuto i suoi momenti in cui evidentemente la devozione per padre pio diventava anche più ricca se vogliamo più ricca di episodi poi da raccontare ai propri familiari di benedizioni e quant'altro intanto vi ricordo che voi stessi potete comunque contribuire a dare un tocco a questa nostra diretta inviando le vostre foto foto di pellegrinaggi appunto a san giovanni rotondo a pietra il cina nei luoghi di san pio all'indirizzo che avete già visto nella grafica info chiocciola tele radio padre pio punto it guardando l'orologio 10 53 direi che è il momento perfetto per ritornare come vi accennavo prima a parlare di un punto cruciale nella nostra storia proprio di italiani di europei ma anche nella nostra contemporaneità perché quante volte in questo periodo qualcuno ci ha chiesto cosa ne pensiamo della nostra libertà quando ci viene richiesta in maniera pressante o addirittura ci viene da parte delle istituzioni suggerito come obbligo un qualcosa che riguarda la nostra salute ecco la libertà allora che cos'è la libertà è qualcosa per la quale molti si sono spesi soprattutto in passato non solo con parole ma con opere anche con il sangue e lo sappiamo anche nelle nostre radici appunto europee ma in questa intervista che abbiamo tratto dal nostro archivio a padre marco rupnik in cui si parla anche del sacramento della riconciliazione perché era appunto un evento dedicato alla misericordia il contesto nel quale l'ho realizzata padre marco ci spiega qualche risvolto molto importante anche sulla libertà ascoltiamolo lei dice che la confessione attualmente nelle sue modalità non ricorda l'essenziale ma è semplicemente quasi un surrogato della psicoterapia e purtroppo in molte zone d'europa è successo così invece io penso che la riconciliazione essendo un sacramento sorella del battesimo e ci ridona quella vita che abbiamo ricevuto nel battesimo che è la vita del figlio che la vita nel suo corpo che la chiesa ci ri inserisce nella chiesa dandoci questo modo di esistere che che fraterno io scopro fratelli e sorelle in cristo io sono uno intessuto in un organismo che è la chiesa io penso che questa è la cosa più stupenda e meravigliosa e la più antica della verità della riconciliazione lei ha spiegato in maniera estremamente chiara la differenza e l'importanza di cogliere questa differenza tra individuo e persona ma nella parola persona che viene da il greco il significato è maschera come facciamo noi a vedere una relazione beh anche su questo c'è uno studio molto importante di un grande teologo greco ianes gisulas dove fa vedere che anche questo perché per noi cristiani di per sé non noi non abbiamo importato la parola persona i padri greci non hanno importato da prosopon che sarebbe questa maschera ma da ipostasis però lui dice che anche attraverso questa visione che la persona significa maschera dice qualcosa su ciò che per noi cristiani e la persona cioè siccome io mi sono messo una maschera per una azione teatrale che mi permette che sotto questa maschera io sono veramente quello che vorrei essere cioè libero perché solo in quel momento sono libero quando faccio questo perché gli altri guardano una cosa ma io posso questa cosa mi permette di essere veramente libero perché per noi cristiani la persona è proprio questo modo di essere liberi perché per noi cristiani la libertà è una dimensione costante costitutiva dell'amore l'amore cristiano c'è solo se è libero perché un libero dono di sé una libera adesione all'altro la questione è veramente la libertà la persona è libera però nel nostro tempo c'è anche invece una grande coincidenza con quello che lei dice cioè l'individuo viene esaltato in nome di questa libertà il problema è tutto negli equivoci ecco bravo il problema negli equivoci perché vede l'individuo capisce la libertà come ciò che lui gli è permesso di fare no più ampio raggio io per la realizzazione della mia volontà più mi sento libero no ma quale è l'esito di questa libertà se io faccio tutto ciò che ho voluto intanto ho fatto un sacco di danni intorno normalmente però alla fine finisco anch'io con la morte allora che libertà è che mi ha portato a realizzare una vita che non va oltre la tomba mentre per i cristiani la libertà significa una libera adesione nella comunione e solo l'amore rimane paolo dice tutto passerà ma l'amore rimane e perciò la libertà nostra ci porta proprio a vivere da figli e anche nel modo pratico concreto che ne so prendiamo un esempio sulla scia di Dostoevsky un bambino gioca e il pallone li va e rompe un vetro e va del padre dice papà ho fatto un incidente ho rotto il vetro sì figliolo ho visto c'ero lì ero con te cioè liberi con la relazione ci fa liberi veramente non solo essere liberi da qualcosa per essere liberi per qualcosa ma liberi con altro liberi nella relazione ma questo è una dimensione dell'amore la libertà sola non esiste una fissazione dell'individuo moderno perciò uno cerca di realizzare libertà e distrugge se stesso gli altri Berdiaev grande pensatore russo dice la libertà è solo nell'amore fuori dall'amore la libertà non esiste e schiavitù di qualcosa grazie padre marco e grazie glielo ripeto proprio adesso perché veramente ci ha dato una bussola non da poco anche a proposito di queste tempeste che a volte ritornano nelle nostre esistenze in cui sembra proprio che non possa andare d'accordo la libertà con il bene e la libertà degli altri invece la persona quello che noi siamo è il riferimento appunto che abbiamo sentito fondamentale per creare e ritornare a quella società cristiana che l'europa aveva costituito e che a volte invece viene dimenticata ma oggi era la giornata giusta per tutto questo intanto siamo arrivati al momento di una sosta naturalmente dando la linea alla regia siamo di nuovo in diretta alle 11 e 06 naturalmente un grazie per averci scelto in queste mattine che sono tornate estive dopo qualche giornata molto diversa vissuta non solo qui a san giovanni rotondo con forti piogge ma anche addirittura altrove con tempeste che hanno fatto credere a qualcuno che quasi il caldo ci avesse dimenticati non è così siamo appunto nel cuore dell'estate in un periodo in cui in genere la scuola è un po in secondo piano anche perché ormai in questo anno scolastico particolare in pochi hanno avuto magari anche molto da lavorare durante le settimane e i mesi estivi ma noi non dimentichiamo che l'arte vera e propria dell'insegnante è qualcosa che è affascinante anche nel suo mistero non soltanto nella banale importanza ecco parlavamo prima di mattarella non ho detto ho detto solo che era stato ed è un costituzionalista ma naturalmente lo è stato anche attraverso la funzione di docente e quindi noi proprio forse sottovalutiamo a volte il potere e la forza di questa arte straordinaria che è insegnare con questa parte di intervista realizzata dalla nostra anna maria recuperiamo questa piccola lacuna il professore una vocazione o un semplice mestiere all'inizio l'ho visto come un mestiere poi mi sono accorto che forse era una vocazione era scritta nelle stelle perché queste stelle sono protagoniste della sua vita che fin da quando ero ragazzo era affascinato dalla dall'universo stavo sempre a guardare il cielo era molto più buio di ora e quindi ogni occasione era buona per per andare ad osservare da solo con gli amici le stelle che poi sono diventate la passione del mio dei miei studi successivi e alla fine hanno mi hanno portato a fare questo lavoro insegna matematica insegno matematica e anche informatica a volte i ragazzi oggi guardano il cielo poco penso purtroppo poco perché ci sono altre moltissime altre distrazioni non c'è più il tempo forse di appassionarsi a qualcosa di così lontano distante intangibile hanno bisogno di informazioni rapide e immediate che possono reperire in qualunque altro modo l'astronomia con tutti i suoi diciamo i suoi difetti perché purtroppo è molto dipendente dalle condizioni atmosferiche che i ragazzi non possono comandare con il loro smartphone quindi hanno hanno forse poca poca voglia di impegnarsi in qualcosa di così astratto adesso che il suo lavoro è diventato una vocazione quando si trova davanti i ragazzi che cosa pensa ci sia molta speranza in loro allora io li vedo molto molto diciamo dubbiosi sul futuro che che possono avere davanti perché comunque si informano e sanno che le difficoltà sono sempre più grandi per trovare un posto di lavoro per creare una famiglia per sistemarsi in qualunque modo e forse affrontano la scuola senza senza diciamo sfruttarla al massimo cioè fanno delle la loro scelta magari spinti da amici o dai genitori e poi a scuola molti vengono così senza senza voglia di apprendere ma solo perché sono costretti a venire non vedono una finalità nello studio che loro fanno per sfruttarlo successivamente e questa è la cosa peggiore noi ci proviamo in tutti i modi però spesso ci troviamo di fronte a delle situazioni difficilmente malleabili hanno già delle idee molto chiare cioè non avere nessuna idea per il futuro è la loro ed è la più grossa preoccupazione nostra non riusciamo più a infondere voglia desiderio di apprendere di imparare di studiare questa è la cosa la cosa peggiore che stiamo vedendo sempre più andando avanti con il tempo nascono informati qual è lo strumento di un docente il fabbro ha il martello lo strumento è la voce che purtroppo va via e cercare ogni volta di creare qualche scintilla all'interno delle delle teste dei ragazzi entrando in classe una classe anche numerosa più di 25 nelle nelle prime classi spesso la situazione è davvero difficile inventarsi ogni giorno qualcosa di nuovo non è così agevole ci vuole molto 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 tempo e molto fiuto nell'individuare la strategia giusta non c'è un qualcosa una regola scritta che possa essere eseguita si confidano i ragazzi con i professori spesso quando in una classe c'è qualche ragazzo che non riesce chi è il fallito il docente o il ragazzo stesso è il docente se non riesce a far capire al ragazzo che non è lui il fallito bellissima conclusione ma è stata direi perfetta anna maria come sempre anche proprio nel darci un succo di quello che è un'attività così preziosa così antica così tipicamente umana come l'insegnare avete sentito prima da maria antonia anche oggi ci sono nozze d'argento qui a san giovanni rotondo da celebrare e tra l'altro ci saranno anche nelle vostre case altri anniversari magari non d'argento non d'oro ma che comunque sono prossimi e volete celebrare o comunque volete fare quello che spesso non solo dal punto di vista della donna è un gesto appunto per rappresentare la gioia il momento di felicità il grazie a qualcuno che amiamo ovvero cucinare qualcosa per lui per loro e noi ritorniamo oggi a un una materia prima un pesce che ha un aspetto abbastanza orrendo ne parlavo l'altra volta a proposito delle immagini prima di vederlo cucinato del rombo e anche della coda di rospo ma invece questa volta il nome di questo pesce è diventato anche un modo di dire proprio di qualcuno che ha le fattezze non molto belle ma naturalmente dietro fattezze non bellissime può esserci molta bontà e squisitezza per il nostro palato eccovi una ricetta quella dello scorfano con lo scorfano la natura si è davvero sbizzarrita incontrarlo sott'acqua è cosa assai frequente e grazie alla sua indole tranquilla si ha la possibilità di osservarlo da molto vicino la particolarità che attira l'attenzione è la forma della testa con gli occhi sporgenti labbra carnose e il fatto che sia sproporzionata rispetto al corpo contrariamente a quanto possa far pensare il suo nome che ha notoriamente una connotazione dispregiativa e tra i più belli e gustosi che il mare ci regala i nostri nonni dicevano che mangiare pesce fa bene alla memoria e lo scorfano prestandosi a mille ricette non fa eccezione ed è proprio assaggiando le tante specialità culinarie delle tremiti che si scopre la storia di queste isole e si capisce come a queste prelibatezze del palato siano spesso nate dalla povertà degli abitanti che hanno saputo combinare egregiamente ghiottoneria di ogni genere tra cui anguille soppressate caciocavalli fave insalate di arance e limoni ostie ripiene vincotto di uva o di fichi qualunque turista passerà per queste terre verrà senz'altro preso per la gola e porterà via con sé un souvenir sicuramente gastronomico come le profumatissime spezie prezzemolo basilico aglio capperi origano rucola selvatica e il ben noto olio extravergine di oliva che il territorio del gargano produce in ogni angolo sedersi a una tavola allestita con pietanze tipiche isolane significa dunque coinvolgere tutti i sensi nel trionfo del palato e noi di andata e ritorno non possiamo di certo esimerci dall'esserne coinvolti oggi prepariamo un formato tipico di pasta pugliese i troccoli i troccoli fatti a mano fatti a mano li facciamo noi ok li abbiniamo con patate il cappero tipico tremitese lo distingue perché le misure sono tutte diverse non è quello standard comprato c'è il piccolino una fogliolina pomodorino fresco mettiamo degli odori tipo rosmarino del basilico che ti ho visto poi cogerli fuori ma anche i pomodori è arrivato il pezzo forte il protagonista principale perché con questi troccoli li condisci con questo facciamo il sughetto con lo scorfano buonissimo e sarà una adesso lo squamiamo lo prepariamo ci dicevi dunque gli odori poi le olive le belle olive al forno tipiche nostre pugliesi buonissime il pomodorino fresco spaccato sempre di nostra produzione noi abbiamo il nostro orto non è che ti ho messo anche un po di esemplari tipo questo mero questo che è buonissimo della buccia di limone essendo estate abbiamo questo brio con un po di freschezza l'olio extravergine pugliese nostro il sale il pepe va bene una bella cipolletta fresca e il peperoncino gradisce il pipone a ritmo di tango si conclude quando vediamo le ricette di anna maria il piatto pronto ma adesso vedo in diretta la nostra maria antonia che proprio nella chiesa san pio con questo sfondo splendido di alcune delle arcate e con i banchi che sono ton sur ton direi quindi colori caldi colori che rimandano a questa splendida terra a te maria antonia intanto maria pia sì speravo di riuscire a intercettare i festeggiati ho girato un po tra questi banchi che tu giustamente sottolineavi ma non sono ancora arrivati quindi purtroppo non sono riuscita ad avere degli ospiti non come dire non gettiamo la spugna nel senso che mancano ancora un po di minuti all'inizio della celebrazione eucaristica per cui se dovessimo riuscire ad avere qui i festeggiati ci farebbe davvero piacere una loro testimonianza su questi traguardi ai quali noi siamo anche abituati perché spesso qui in chiesa san pio vengono appunto celebrati 25 anni di matrimonio intanto però nei miei giri qui dentro e fuori la chiesa ho incrociato diversi pellegrini che vengono da diversi punti diversi posti luoghi d'italia con i quali scambiamo sempre volentieri quattro chiacchiere e poi non tutti ovviamente hanno voglia di mostrarsi alla telecamera tanti magari sono anche di fretta perché hanno come dire delle tappe anche del loro pellegrinaggio ben scandite in ogni caso noi siamo qui per prepararci a partecipare insieme alla celebrazione eucaristica delle 11 e 30 che sarà preseduta quest'oggi da frannicola monopoli approfitto anche per ricordarvi che questa sera le 20 e 45 l'appuntamento con la preghiera sotto la croce del venerdì come sempre in diretta su padre pio tv è domani il consueto appuntamento serale con la fiaccolata mariana io restituisco a terra linea maria pia poi ci ricollegheremo subito prima dell'inizio della santa messa certo infatti mancano pochi minuti questo è il nostro prologo come sapete che può essere più o meno ricco di collegamenti più o meno ricco di argomenti che vi piacciono ma vorremmo comunque avesse dei punti fermi uno dei quali è appunto eventualmente un vostro contributo attraverso le foto del pellegrinaggio per chi si fosse collegato soltanto adesso ripetiamo che l'indirizzo è info chioccio la tele radio padre pio punto it e adesso è arrivato il momento di dare nuovamente la linea alla regia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti